Seggi aperti dalle 7 questa mattina in 15 comuni per le elezioni amministrative. Citizenei sondaggi in Marcianiise, Maddaloni, Orta di Allalla, San Felice a Cancello, Lusciano, Vitulazio, Alife, Cancello e Arnone, Caiazzo, Riardo, Sant'Angelo di Alife, Galluccio, Pentenzano, Raviscanina e Letino. Sarà possibile votare fino alle 2300 stasera e domani, lunedì 15 maggio, dalle 7 alle 15. I dati di affluenza alle 1900 dati aggiornati a 14052023927 sezioni 12 ore domenica 19 ore prec.1900